Il tuo francesca mezzino appuntato, il tuo dono c'è il tuo spazio, il tuo ossigeno colcato, il tuo regolato, il tuo stancho fuori, il tuo qu разino, il tuo regolato, il tuo chave, il tuo клуб, no tu vuoi co tu puoi, il tuo regolato, il tuo regolato il tuo regolato, il tuo regolato, il tuo regolato, oooohhhh Ma guarda, lui è un personaggio infinito, lui è uno che magari non va letto per tre giorni. Questa è la domanda del rabbino, tu sei sicuro? Questa è la chiave del... Ascolta, Antonio, in maniera laica, molto laica. Non Nikon, non Nikon, laica, capito? Vedete un pozzo di questo vino qua, al di là di quello che c'è scritto. Vieni qua, Antonio. Tu devi essere già questo vino qua. Entra e vai sulla sinistra. Ed è un paradiso, entri in paradiso. Dobbiamo togliere questi bottiglioni, sennò non ci vediamo. A meno che vogliamo fare il carbonari, voi mi date un'accendina, accendiamo queste bugie. Si, accende le bugie. Se vediamo noi... Ma no, Laura... Sto scherzando, no, no. Io non vado a tenere me. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. No, ma scherzi a fare cosa? Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. E vengono a confrontarsi in mente. C'è una fase breve andante. Io le provo esattamente. La domanda che mi facevo. La difficoltà! doch, a me dispiace. che c'è qualcosa di più di più di più sempre il camionetto buongiorno Siamo venuti a andare dicendo bottiglie di vino. Ti stai bruciando. Tu sai che tutto questo è creato, lavorando sotto, piano piano. Siamo venuti a andare dicendo bottiglie di vino. Tutti i miei pseudo sono vittime di vino. Siamo venuti ad andare dicendo bottiglie di vino. Grazie a tutti 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 Mario Grazie a tutti 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 Oh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti